buongiorno a tutti oggi vedremo come preparare la batteria per poterla poi installare sullo scooter questa è una batteria con acido a parte e quindi saremmo noi che dovremmo metterla regolarmente in funzione allora abbiamo la confezione questa volta ho scelto una bosch o solitamente è sempre preso l'uasa adesso voglio dire quanto dura questa bosch nella confezione troviamo la batteria tutte le viterie a corredo per l'installazione sullo scooter l'impacco acido all'intero della confezione troviamo ovviamente le istruzioni che vi invito assolutamente a leggere quando effettueremo l'installazione dell'acido all'interno della batteria utilizzeremo dispositivi di protezione individuale come gli occhiali e i guanti allora la prima fase che dobbiamo effettuare è quella di preparazione della batteria e dobbiamo rimuovere questo adesivo da sopra la batteria quindi rimuoviamo la linguetta di sicurezza allora qui abbiamo i nostri fori di riempimento dopodiché dobbiamo preparare il contenitore dell'acido che andrà versato all'interno della batteria quindi rimuoviamo la plastica che la contiene togliamo via le forbici che non ci servono allora qua c'è tutta una serie di tappi questi sono i tappi che andremo a mettere sui fori della batteria quindi andiamo a rimuovere non foriamo assolutamente i sigilli dei vari contenitori dell'acido quindi adesso ci prepariamo adesso prendiamo il contenitore dell'acido e lo andiamo a posizionare su sei fori in questo modo assicuriamoci che siano precisi dopodiché esercitiamo una bella pressione sul contenitore fino a che il contenitore vada a schiacciare sulla batteria ecco fatto come vedete ci sono le bollicine che vengono su da tutti e sei i flaconcini e quindi adesso aspetteremo dieci minuti che si svuota il flacone dell'acido nel caso in cui notate che uno dei sei cilindri non fa le bollicine provate a picchiettare un pochino sul cilindro dove non non va giù l'acido in modo tale che inizia a defluire all'interno della batteria quando vediamo che nel contenitore è defluito tutto l'acido all'interno della batteria per essere sicuri che anche le goccioline di acido che sono rimaste nel contenitore vadano dentro la batteria diamo dei colpetti in modo tale da essere sicuri che tutto l'acido del contenitore della batteria sia entrato all'interno rimuoviamo con cautela il contenitore della batteria e lo andiamo a mettere nei rifiuti speciali lasciamo che l'acido entri in formazione con le piastre e sentiremo uno sfrigolio quando lo sfrigolio terminerà dopo almeno un'ora allora potremmo chiudere i fori con i tappi adesso prendiamo i nostri tappi che dobbiamo andare inserire sui fori della batteria e premiamo verso il basso con i tappi che dobbiamo andare inserire sui fori della batteria e consigliere sui fori In questo momento abbiamo terminato tutte le operazioni per mettere in funzione correttamente la batteria. Adesso prima di prendere la tensione in volt della batteria aspettiamo mezz'ora che l'acido agisca con i componenti interni della batteria, quindi ci rivediamo tra mezz'ora. Sono passati più di mezz'ora da quando abbiamo messo l'acido all'interno della batteria, adesso dobbiamo misurare con un tester, un multimetro, la tensione in volt di questa batteria. Allora accendiamo il nostro tester, mettiamo su 20 volt, quindi qua abbiamo il polo positivo, qua il polo negativo, siamo intorno ai 12,60. Allora le istruzioni dicono che se 12,70 è già pronto all'uso, però io comunque preferisco attaccarla alla carica di batteria. Morsetto positivo, polo positivo, morsetto negativo, polo negativo e lo mettiamo in carica. Allora adesso mentre la batteria si farà i suoi lenti cicli di carica. Possiamo dire che ormai questa batteria è sigillata, non dobbiamo più aprirla, quindi non bisognerà fargli alcun tipo di manutenzione, nessun brabocco di acqua distillata o acido, ma rimarrà così com'è. Ricordiamoci semplicemente che una volta che sostituiamo la batteria allo scooter, la batteria vecchia dobbiamo portarla alla stazione ecologica, oppure ritirare il negozio al quale abbiamo acquistato la batteria nuova dello scooter. Mi raccomando è importante lo smaltimento in modo corretto delle batterie vecchie, che sono altamente inquinanti. Mi raccomando quando montiamo la batteria sullo scooter teniamo i poli puliti, possiamo pulire i poli della batteria, rimuovendo polvere e sporcizie, e possiamo mettere del grasso a litio sui morsetti dello scooter, in modo tale che l'umidità non li va ad aggredire, favorendo la formazione di ruggine. Quando misuriamo i voltaggi della batteria a vuoto, se misura 12 e 70 vuol dire che la carica al 100%, se misura 12 e 50 vuol dire 75%, se 12 e 20 vuol dire che la carica della batteria al 50%, se invece la tensione a vuoto è 12 volt, vuol dire che la batteria è carica al 25%, se siamo intorno all'11 e 8 la batteria è a 0, scarica a 0, e in questo caso i tempi di ricarica sarebbero 24 ore. Nel caso nostro la batteria era abbastanza carica, intorno al 85-90%, per cui per caricarla completamente ci vorranno circa 4 ore. Bene, spero che questo piccolo tutorial vi sia stato abbastanza utile, noi ci vediamo alla prossima occasione. Ciao!